buonasera a tutti ragazzi io avevo detto che avrei fatto un video particolare su quello che era successo a monza o meglio quando è stato esposto lo striscione 17 6 2007 non siamo ancora qua no ecco bene lo faccio rivedere eccolo qua 76 27 noi siamo ancora qua e io ho detto e noi siamo ancora la perfetto perché dico questo ma semplice per chiarire una volta e per tutte quello che è successo quello che è realmente successo all'arena garibaldi stadio romeo anconetani perché qualcuno del monza ancora fa girare dei video io ero su sugli spalti a lupo aure stadium di monza dove non è successo niente assolutamente nella parte da un'altra solo quando è stato esposto che sottriscione e li sono volati poi di insulti ma niente di più ma perché perché nessuno vuole ricordare o meglio non interessa più a nessuno sono fatti accaduti 15 anni fa quindi non vedo perché continuare a rivangare queste cose ma io ho preso in particolare questo video perché perché sugli spalti c'è stato un mio amico che mi ha detto sai che ancora sai perché hanno messo questo striscione perché ancora gira quel famoso video su quello che è successo all'arena garibaldi ma visto dalla parte del monza beh io a questo punto voi sapete no se non sapete ve lo dico io che prendere le ispezioni di video e commentarli non si viola nessun copyright ecco perché io dico io prendo questo queste ispezioni di video e li vado a commentare quindi non si viola nessuna norma di legge bene poi per quanto riguarda i contenuti posso essere smentito quello è chiaro ci mancherebbe altro però non si viola ripeto nessun nessuna legge sul copyright detto questo andiamo subito a vedere quello che dice questo questo tifoso del monza ma vedere e poi commentiamo passo passo quello che viene detto invasione in campo che però da pacifica e festosa invasione si trasforma purtroppo in un'azione contro la tifoseria rivale e qui ci sono diverse correnti di pensiero infatti leggo direttamente dall'articolo testuale parole scritto appunto nel 2007 a caldo dopo gli scontri dove viene specificato che mentre all'esterno dell'impianto sportivo pisano risultavano allestiti sentieri adeguatamente protetti per l'afflusso ed il deflusso dei tifosi in condizioni ovviamente di sicurezza all'interno dello stadio non vi era molta presenza delle forze dell'ordine infatti le forze dell'ordine non erano entrate nello stadio neanche a dieci minuti dalla fine quando era ormai chiaro dopo il gol decisivo del 2 a 0 del pisa che la tifoseria appunto nera azzurra era in procinto di effettuare una grande invasione in campo che avrebbe coinvolto comunque più di una migliaia di persone e dunque al fischio finale la temuta invasione di campo ebbe luogo e durante questa invasione un gruppo considerevole comunque di tifosi pisani abbandonò le celebrazioni della proporzione della loro squadra per fiondarsi per proiettarsi sotto la curva della tifoseria ospite composto ovviamente da tifosi monzesi e contro la tifoseria ospite è iniziato immediatamente uno scambio di parole di minacce tra appunto le due tifoserie quando poi si arrivò addirittura a lanciare oggetti contundenti di varia natura comprendenti bottiglie piene che non avrebbero dovuto neanche essere introdotte nello stadio anzi addirittura è stato tentato lo sfondamento delle pareti in plexiglass che separano gli spalti ovviamente dal campo mentre riuscì lo sfondamento della porta di emergenza ponendo così le due tifoserie opposte face to face faccia faccia quindi a contatto vi sono stati così inevitabilmente purtroppo numerosi bene poi il resto numerosi feriti eccetera eccetera bene allora chi dice che le bottiglie erano piene ma lo dice lui lo c'è giornale non lo so benissimo d'accordo e questo è uno poi dice le pareti in persiglass che dividono il campo campo di gioco dagli spalti allora ricordo al signore di monza che le separazioni c'è la separazione il recinto è vetro antiproiettile antisfondamento non certo di persiglass come dice lui perfetto poi dopo dice che le due tifoserie si sono trovate a contatto face to face non solo dice che fondamentalmente le porte sono state sfondate da questa parte allora ora poi vi mando il video integrale di quello che è veramente successo sulle porte così vediamo se la facciamo finita il discorso sta in questi termini qui come facciamo adesso la partita è terminata era terminata da buoni buoni quattro d'ora venti minuti io dico questo hai perso la partita è finita allora c'era c'era la gioia perché siamo scesi in campo per la vittoria e tutto quanto e nessuno è venuto dalla curva assurda ma siete voi che siete rimasti lì a insultare e a offendere eccetera eccetera va bene allora quando è finita la partita come facciamo adesso finita la partita si svinca o si perde e tutto quello quello che è dopo poi si prende si esce dall'impianto sportivo anche perché non c'è motivo di rimanere lì a conti perché poi alla fine erano rimasti 70 80 persone non è che erano rimasti di più quindi nessuno è venuto a sfondare le porte e e quant'altro va bene se i tifosi sono trovati face to face cosa che non doveva essere su questo siamo perfettamente d'accordo adesso per dire negli stadi non ci sono le polizie nei carri sono gli steward che alla fine ti fanno uscire ma anche per un discorso di sicurezza chiaro no o quindi alla fine se la partita è finita noi stavamo festeggiando in campo perché poi ci siamo ritrovati tutti a festeggiare nel diciamo dov'è la tribuna coperta per diciamo così ringraziare il presidente e chi c'era all'epoca va bene ma non certo per venire in curva sud a fare cosa a fare niente perché fondamentalmente nessuno aveva l'intenzione di venire a fare chissà cosa comunque vediamo il discorso delle porte così lo vediamo meglio la vedete vedete ora tra un po apriranno le porte e i tifosi di monza entreranno in campo ecco lì visto perfetto avete visto quindi i tifosi del pisa non sono certo venuti a sfondare la porta e per venire in curva sud ma veramente secondo le immagini è proprio il contrario il contrario cioè sono tifosi del monza che si sono che per forza sono venuti ad andare alla porta e per forza sono voluti entrare in campo a cercare lo scontro questo è quanto è questo è quanto questo è quello che dice le immagini questo è quello che dicono le immagini va bene quindi nessuno è venuto a sfondare le porte e nessuno è venuto un curva sud ma casomai il contrario dalla curva sud siete entrati in campo per cercare la rissa per cercare lo scontro questo è quanto questa è la verità questo è quello che dicono le immagini è inutile insistere è inutile persistere che se uno prendeva e se ne andava succedeva niente niente succedeva ecco così sono andate le cose che poi non ci sia stata la polizia che poi sia stato fatto un'interrogazione parlamentare perché non c'era la polizia eccetera eccetera ma questo è un altro discorso questo è un altro discorso il discorso è che se uno prendeva e se ne andava non succedeva niente non sarebbe successo niente invece no siamo rimasti all'interno dell'impianto sportivo è aspettare chissà cosa e alla fine a prendere a prendere e voler per forza entrare in campo per cercare lo scontro ecco questo è questo è quanto questi sono questa è la verità questa è la verità poi indipendentemente che il gol il rigore non dato quelle sono altri discorsi questi sono altri discorsi ma il discorso di essere entrato in campo non è che siamo non è che i tifosi del pista sono entrati in curva sud e hanno fatto diciamo chissà cosa no 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 le immagini parlano chiaro le immagini parlano chiaro parlano da sole siete voi che siete entrati in campo siete voi che alla fine siete voluti entrare in campo per forza per cercare lo scontro questo è questo è quanto non è più e nemmeno né più e nemmeno ma andiamo avanti perché c'è un ultimo pezzo e mi piace condividerlo insieme a voi ovviamente causa covid 19 le due tifoserie non potranno incontrarsi e sotto questo punto di vista direi anche fortunatamente e ovviamente mi schiero contro qualsiasi tipo di violenza tra le curve tra tifoserie quando i tifosi sono la vera anima del calcio dovrebbero limitarsi solo ed esclusivamente ad essere quella roba lì purtroppo la storia ci insegna che in queste grandi partite ma non solo si cade in questi brutti eventi che hanno coinvolto come vi ho testimoniato come vi ho detto tante persone tanti ragazzini anche che probabilmente sono andati a pisa ma non solo per vedere la propria squadra magari approdare in serie b e festeggiare pacificamente come sicuramente hanno fatto la maggior parte dei tifosi anche pisani ma purtroppo il 17 giugno del 2007 quindi data della promozione del pisa calcio in serie b verrà ricordata eternamente solo ed esclusivamente per questa brutta storia bene non si è sentito allora quando è venuto qua al mondo a giocare all'andata mi sembra a me che non sia successo niente qualche screzzo qualche ma è normale quello ci sta lo sfottò e ma è voglia dire se l'anima del calcio quello no quindi voglio dire però nessuno è successo niente sono toccato nulla nessuno ha toccato nessuno niente a posto siamo andati noi a mozza mi pare che ma parte loro quando hanno messo fuori lo striscione ma se no ma ma chi cioè uno stava là e incitava la propria squadra quindi non è successo niente di che solo ripeto quando è stato esposto lo striscione che secondo me poteva anche essere evitato cioè non non vedo perché rivangare queste cose comunque sia non è successo non è successo niente poi io credo che io credo credo penso che alla fine siamo tutti d'accordo che l'anima del calcio è quella di andare lì il tifo è l'anima del calcio e quindi andare e sostenere la propria squadra sia 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 insomma nell'indole del insomma dei ragazzi la curva curva nord curva sud e quelli che siano insomma e anche di chi viene fuori ma chiaro normale però in definitiva voglio dire non è non è successo successo niente di che insomma poi adesso diciamo ci sono insomma si si è trovato siamo siamo nel 2022 e io credo che insomma non questo questo punto sia siano veramente ormai i tempi di tirare giù i motorini e diciamole i lavandini della insomma penso siano finiti domani uno va va per veramente quindi anche io sono contro certo tutte queste queste forme di violenza primi se uno deve andare allo stadio e sostenere la propria squadra basta cioè nel senso poi il tifo da una parte non altri chiaro è anche bello che ci sia insomma nel rispetto di tutti ecco questo questo in primis in primis in assoluto poi dopo va bene come dice come dice il soggetto monzese poi ci può essere o per l'amor di dio può capitare ma vanno struncati sul nasce io mi sembra a me poi dici causa cobit ripeto non è successo niente cobit o non cobit poi il voler per forza rivangare queste cose sono secondo me cose assurde ecco cose assurde che non hanno più più modo di esistere penso insomma è finita sono passati 15 anni insomma quello che è stato è stato però per dire e con questa concludo e la chiudo una volta e per tutte ripeto i tifosi del pisa non sono andati in curva sud a fare niente di che ma come abbiamo visto dimostrano le immagini i tifosi quei pochi che sono rimasti saranno stati un centinaio forse hanno preso e sono entrati in campo per cercare la rissa perché una volta finita la partita una volta che il risultato insomma era è stato di 2 a 0 per il pisa pisa è salito in serie b in quell'occasione e ho diceva beh ho perso e pazienza io sono andato anche a trieste ai playoff e io chi è stato con me eravamo 4000 quasi quasi 5000 ci sono praticamente ma ma non ci sono neanche diciamo i vetenti sfondamenti i vetenti no non c'è niente fondamentalmente ci sono dei separatori che sono fra campo e diciamo le curve le tribune insomma e il campo e i tifosi dove sono i tifosi ci sono le barriere di un metro ma nessuno nessuno ha superato quelle barriere nessuno ha fatto niente eppure bastava bastava soltanto un saltino non è successo niente perché non è successo niente ma non sarebbe successo niente neanche in quell'occasione ripeto se i tifosi del monza alla fine della partita fossero usciti ordinatamente dall'impianto sportivo ecco tutto lì questo è stato il problema va bene perfetto se vi è piaciuto questo video pollice su mi raccomando commentate perché ci sono i commenti quindi vi farebbe piacere sperare qualche commento a e vi lascio il il link in descrizione così qualcuno può vederlo in in toto va bene io mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa